Sandra Perkovic ha letteralmente vinto gli europei di Berlino nella specialità atletica cosiddetta lancio del disco. Pensate che ha vinto con 67.62. Al secondo posto invece la brava, bella e simpatica Nadine Müller tedesca e alla terza posizione, quindi medaglia di bronzo, alla brava Shanice Kraft, anche lei, di nazionalità tedesca. Complimenti alla bravissima Sandra Perkovic per aver vinto questo lancio del disco in questi imminenti o meglio importanti europei di Germania, precisamente a Berlino, che ci sono stati, si stanno avendo, si stanno tenendo. Un salutone, iscrivetevi se vi va, quindi se volete, commentate, datemi una vostra opinione personale. Vi ricordo che invece Daisy Usakwe, che è italiana, azzurra, è arrivata alla quinta posizione, al quinto posto, come già detto in un altro dei miei video presenti in questo canale di YouTube. Un salutone, iscrivetevi, al prossimo video da narratore italiano.